Massimo, una gara che si comenta difficilmente, c'è tanta amarezza e dispiacere? Si dispiace molto perché come la partita di domenica scorsa non ci aspettavamo un'ennesima sconfitta, però dobbiamo cercare in questo momento di difficoltà di stare uniti, sereni, di isolarci sotto un punto di vista per cercare di proseguire il nostro percorso che è quello di far più punti per la salvezza. So che quest'anno è una nata particolare, difficile, però dobbiamo cercare di lottare di più, anche perché penso che se in questo momento abbassi la testa è ancora peggio. Dispiace per tutti, rispiace per i tifosi, rispiace un po' per tutte le componenti del mondo Empoli, adesso c'è da rialzarsi, reagire e tornare a sorridere. Questo è il pensiero comune di tutti, quello che vogliamo fare, sappiamo che ora abbiamo altre due partite molto difficili, però dobbiamo cercare di aggrapparci a tutto, anche alle partite impossibili tante volte possono far cambiare le cose. Da capitano, come giudichi il momento della squadra, tutto il gruppo, mister ha detto, lavoriamo durante la settimana, da lì ci tiriamo fuori sicuramente. È sempre stata la cultura qua in Empoli, quello del lavoro, dobbiamo cercare di lavorare, lavorare meglio, lavorare di più, vuol dire che stiamo lavorando male, vuol dire che quello che stiamo facendo finora, vuol dire che non basta e dobbiamo cercare di migliorarci ancora. Grazie. 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 Grazie.